In catene davanti al pronto soccorso di Pescara, Domenico Pettinari, partendo da una triste vicenda denunciata su Facebook da chi ha perso il proprio zio, scrive, durante la lunga attesa. Un anziano che è morto, scrive la nipote, col telefono in mano nel tentativo della decima telefonata. Una vicenda questa ancora da chiarire, ma Pettinari riprende il duro sfogo della donna sui social, suo zio in attesa di essere assistito non ce l'ha fatta e il suo cuore ha ceduto. Pettinari va all'attacco della regione Abruzzo, rea di non incentivare i medici, visto la scarsità del personale sanitario che non riesce a coprire tutte le emergenze del pronto soccorso di Pescara. Partiamo dal caso che è successo ieri notte, per citarne tanti altri, un cittadino che ha atteso sette ore, oltre sette ore e mezzo in pronto soccorso, chiamava di continuo i parenti chiedendo aiuto, c'è una testimonianza di dolore pubblicata su Facebook dalla nipote di questo cittadino e dopo sette ore, non ricevendo prestazioni molto probabilmente perché così scrive su Facebook la nipote, è deceduto. Forse si dice col telefono in mano perché stava chiamando per l'ultima volta, allora questo inferno non si può più vivere in un paese civile, in un paese democratico, lo possiamo capire in Africa, non in Italia. Qual è il problema? Mancano i medici in pronto soccorso e si fanno liste d'attesa anche di 24 ore, persone che hanno atteso 24 ore per una prestazione sanitaria in pronto soccorso, non è più concepibile. Perché mancano i medici in pronto soccorso? Perché nessuno vuole andare in pronto soccorso, perché in pronto soccorso si rischia e quindi i medici giustamente chiedono un incentivo economico rispetto agli altri. Basterebbe 500 euro in più, 500 euro in più al mese sulla busta paga per incentivare il personale ad andare in pronto soccorso. E perché si trovano 10 milioni di euro per il ritiro di una squadra di calcio, la regione Abruzzo trova, e non trova 500 euro in più da dare al mese a medici, a quei pochi medici che servirebbero in pronto soccorso, per la nostra salute e per salvare la vita delle tante persone. Pettinare si dice pronto allo sciopero della fame, se niente dovesse cambiare. Io ricevo centinaia e centinaia di gridi di dolore ogni giorno, il mio telefono è acceso anche la notte, mi chiamano la notte, cittadini che sono lì in attesa infernalmente, liste di attesa infernali, senza acqua, senza mangiare. Ho vissuto anch'io un'esperienza due mesi fa, la notte in pronto soccorso, stavo cedendo psicologicamente per le grida d'aiuto e di disperazione della gente, ammassati tutti nel lobby, 20-30 persone che gridavano, si lamentavano e purtroppo nessuno arriva. Un ringraziamento al personale sanitario, perché il personale sanitario fa più di quello che dovrebbe fare. E chi ha l'onere e l'onore di governare la sanità, cioè la regione Abruzzo, che a mio avviso non sta facendo quello che dovrebbe fare. Grazie a tutti.